Musica Arriva la Pasqua e anche la bella stagione, operatori al lavoro negli stabilimenti balneari, c'è un clima di euforia ma col freno a mano i gestori sono preoccupati per la direttiva Volkestein che incombe sulle concessioni. Al Parco Urbano continua l'intervento di rimozione dei rifiuti dopo Pasqua, al via i lavori per la pista ciclabile e a maggio sulla Casa del Custodio. Il Festival del Brodetto anticipato a giugno darà il via agli eventi estivi nel comune di Fano, presentato il calendario delle manifestazioni e i totem interattivi che daranno informazioni sulle iniziative e i monumenti della città. Progetti ambiziosi per la Tecfem di Fano al lavoro per una stazione di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile, la società protagonista anche nella realizzazione di un sistema di accumulo di energia verde prodotta dall'impianto fotovoltaico della sede di Belloni. Reduce dal successo a The Voice Senior, Claudio Morosi annuncia un concerto a Fano per ringraziare concittadini e amministratori che lo hanno sostenuto. Il cantante svela su Fano TV le nuove sfide che lo porteranno in giro per l'Europa e nel Nord America. Fare teatro fa bene alla salute. Domani torna il programma di Fano TV in diretta dalle ore 18. Ospite Fabrizio Bartolucci, regista, formatore teatrale e direttore artistico. Giovedì 6 aprile, benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Lo avete sentito dai titoli. Le festività pasquali sono ormai alle porte, così come anche la bella stagione, nonostante le basse temperature di questi giorni. Marco Lonigro è andato a sentire chiari a tira tra i gestori delle spiagge, preoccupati anche per la direttiva Bolkestein. Infatti le concessioni balneari scadranno il 31 dicembre di quest'anno e andranno messe a gara. Sentiamo. A causa del maltempo dei giorni scorsi è previsto poco traffico sul litorale pesarese durante il weekend di Pasqua. Per trascorrere qualche ora al mare bisognerà attendere settimana prossima, quando si verificherà, secondo gli esperti, un aumento importante delle temperature. Nonostante il clima rigido degli ultimi giorni, i gestori degli stabilimenti balneari si sono rimboccati le maniche e hanno iniziato i consueti lavori di ristrutturazione in vista della bella stagione. Ci sono da fare, come vedete, dei lavori di manutenzione alle cabine ogni anno, bisogna pulire l'arenile. Poi noi, siccome siamo una spiaggia, diciamo, sotto erosione molto piccola, a fine stagione riempiamo quei sacchi con circa due tonnellate di sabbia. Quindi domani o dopodomani dovrebbe venire la russa per suotare i sacchi. Cerchiamo di fare in modo che per Pasqua l'aspetto sia di una spiaggia già pronta per partire, anche se quest'anno con questo freddo a Pasqua non sarà nessuno aperto perché non si sta. Ecco, invece per l'estate com'è il bilancio? Ci sono già diverse prenotazioni? Per l'estate le prenotazioni ci sarebbero. Diciamo, dalla pandemia in poi ci siamo trovati nella situazione di difficoltà perché ci sono ridotti parecchio i posti a disposizione e tra i posti che dobbiamo tenere riservati in qualche modo per l'hotel che abbiamo in convenzione. E gli stagionali vecchi che avevamo è fatica a prenotare persone in più perché poi non sai mai cosa fa il mare, ci è già capitato per esempio l'anno scorso e due anni fa che siamo stati in grossa difficoltà per quasi tutta la stagione perché avevamo il mare che arrivava quasi sotto gli ombrelloni. Parte il tempo, si vede, col cappello di lana diciamo in un periodo un po' non proprio consono alla stagione. Come sempre con i soliti problemi dell'erosione, con gli interventi di tampone che faranno con il rimpacimento, per il resto è sempre la stessa cosa. Qual è la previsione in vista dell'estate? Come sono i numeri? No, l'estate secondo me la gente ha voglia di divertirsi, c'è gente che telefona, prenota, ha voglia di sole, quindi in pratica quello non è un problema perché tutti gli anni dopo la pandemia siamo in crescita. Il problema è l'erosione, se dicono che veramente questi famosi ghiacciai si sciolgono per caduta libera, per i vasi comunicanti, l'acqua dovrebbe arrivare anche qua. Per Pasqua resterete chiusi invece? Sì, sì, no, diciamo che qui siamo tutte famiglie, non sono spiagge come Riccione, Rimini, facciamo una politica più che apriremo verso la fine di maggio, metà maggio, se no non è un turismo di gioventù, un turismo più per famiglie. Un clima di euforia ma col freno a mano tirato a causa dell'incubo asta delle concessioni per la direttiva Bolkestein. L'argomento, ormai al centro del dibattito da diverso tempo, interessa parecchio ai gestori degli stabilimenti balneari che si ritroveranno con una concessione scaduta e messa a gara al termine dell'anno. Qualsiasi cosa succeda l'importante è che decidano perché questa impasse genera pochi investimenti, gente che non cambia attrezzatura nuova perché non si sa che fine facciamo. Quindi in pratica adesso il 20 di aprile mi sembra ci sia una sentenza molto importante della Corte europea che deciderà appunto su un ricorso del tar italiano. Quella sarà la sentenza definitiva che deciderà appunto se andranno all'asta o se si potrà riprorogare per qualche anno. Quindi la Bolkestein è importante perché sblocca tutti gli investimenti che sono fermi. A me sembra proprio una questione incredibile. Adesso anche l'Europa si sta accorgendo che la Bolkestein è una direttiva sui servizi e noi abbiamo in concessione dei beni, non dei servizi. Noi diamo alla gente dei servizi ma abbiamo in concessione un bene. Quindi secondo me l'applicazione della Bolkestein per le spiagge non dovrebbe proprio esserci perché non è il suo ambito. Si svolgeranno domani venerdì 7 aprile alle ore 10.30 al cimitero dell'Ulivo a Fano i funerali di Katia Migliori, docente dell'Università di Urbino, intellettuale e scrittrice. La professoressa è morta all'età di 73 anni all'ospedale Santa Croce dove è stata ricoverata dopo un ictus che l'aveva colpita la scorsa settimana. Katia, che è stata un punto di riferimento per migliaia di studenti, aveva fondato il Centro Studi Mario Luzzi a Montemaggiore di Colli al Metauro e aveva collaborato più volte con Passaggi Festival. L'ultima sua opera, con contributi inediti su Pasolini, l'aveva pubblicata nel 2022 per la casa editrice Aras. Sono ancora da stabilire i funerali di Giacomo Cesaretti, il 26enne di Ronco Sambaccio, deceduto ieri nell'azienda Polver di Bellocchi di Fano. Il giovane era stato agganciato da un carroponte che lo ha trascinato e schiacciato contro un muro. Cordoglio oggi è stato espresso anche dal sindaco Seri. Non si può morire così, ha scritto sui social il primo cittadino, e non si può morire sul luogo di lavoro. Mi stringo alla famiglia con profondo sentimento di Cordoglio. E cambiamo argomento, torniamo a parlare del parco urbano dove continua l'intervento di rimozione dei rifiuti. Oggi l'assessore Brunori ha fatto il punto sui lavori che partiranno subito dopo Pasqua. Ci tenevo a darvi un aggiornamento rispetto ai lavori che stiamo effettuando sul parco urbano. Soprattutto sulla terza area dove domani dovranno essere posizionate degli arredi, quindi sarà un'area polivalente di socialità, di amicizia e di sosta soprattutto. Oggi ci sono dei lavori per quanto riguarda la rimozione dei rifiuti. E' stato trovato un serbatoio di amianto rimosso, c'erano delle particelle di alluminio che fortunatamente niente di tutto questo ha contaminato il terreno. Questo ci permette di andare veramente a grande velocità e ci permette quantomeno di cominciare a lavorare in quell'area che fino ad oggi era stata interdetta. Abbiamo ricevuto qui in Comune, assieme ai tecnici, il titolare della ditta, perché aveva dei forti ritardi, sappiamo bene che il parco doveva già essere consegnato per febbraio. Invece, alla luce di questi ritardi, ci siamo fatti fare un nuovo cronoprogramma. Interverremo subito dopo Pasqua per il completamento della pista ciclabile che va verso il centro commerciale, per il rifacimento di una parte di pista ciclabile che invece è quella che collega i giochi a quest'area dove stiamo facendo la rimozione dei rifiuti, perché purtroppo con le cattive condizioni climatiche la pavimentazione non ha ben aderito, quindi ci sono dei tratti che stiamo ripristinando. Subito dopo, diciamo che entro il mese di maggio, inizieremo anche i lavori per quanto riguarda la casa del parco. Quindi un riuso anche di uno spazio straordinario, policentrico, all'interno del parco urbano che non solo rappresenta l'ingresso, ma nello stesso tempo è uno spazio che verrà efficientato, verranno mantenute quelle che sono le mura perimetrali, ma non essendo a norma antisismica verranno presi tutti i provvedimenti cauti e dovuti proprio per migliorarlo nel suo interno. Migliorarne anche la fruizione, constatato che quello spazio per noi dovrà diventare un'area ricreativa, didattica, dove il quartiere si potrà ritrovare e potrà anche diventare un momento di educazione, oltre che di ristoro. Mentre per i lavori della casa del parco necessiteranno naturalmente più mesi, invece il completamento di quello che è lo stralcio del parco urbano, quindi area verde, piste ciclabili e quest'area dell'arredo, ci siamo dati come nuova destinazione all'estate. E quindi veramente ci auguriamo di poter, ci immaginiamo già in quello spazio con momenti di picnic e di amicizie e di ritrovo di grandi incontri. E il Comune di Fano fa sapere tramite un'ordinanza che sarà prorogata fino al 16 aprile prossimo l'accensione degli impianti di riscaldamento. Resta l'obbligo di non superare i 17 gradi centigrati per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e i 19 gradi per tutti gli altri edifici. Il 7 aprile si celebra la giornata mondiale della salute. Per l'occasione Regione, ARS e l'ormai ex ASUR hanno elaborato i dati sul profilo di salute dei cittadini dal quale è emerso che il 25% dei marchigiani ha più di 65 anni, la speranza di vita per le donne di 85,1 anni, mentre per gli uomini di 80,8. Uno su cinque fuma e tra i giovani uno su cinque ha sperimentato l'ubriachezza. Il tema è salute per tutti, ha commentato l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini. L'obiettivo è di promuovere il concetto che ogni persona, indipendentemente dalla posizione sociale e geografica, debba avere accesso a servizi sanitari di qualità. Con il piano socio-sanitario cerchiamo di farlo tagliando le liste di attesa, con cup provinciali e liste di garanzia, acquistando dai privati i servizi che ci servono e sono carenti. La salute si mantiene anche grazie ad un corretto stile di vita, fare movimento è fondamentale, ma scopriamo che è sedentario il 32% dei marchigiani tra i 18 e i 69 anni, il 30% dei bambini, il 41% degli adunti e il 56% degli anziani è sovrappeso o obeso. Nel 2021, come evidenziano i dati Istat-Aci, nelle Marche si sono verificati 4.663 incidenti stradali, che hanno causato il decesso di 84 persone e oltre 6.200 feriti. Inoltre, 4 marchigiani su 10 presentano almeno una patologia cronica, 2 su 5 ne hanno 2 o più. Le più ricorrenti sono le malattie cardiocerebrovascolari, le malattie respiratorie e il diabete. E adesso parliamo dei nuovi progetti dell'azienda fanese Tecfem al lavoro anche per la realizzazione di una nuova stazione di rifornimento alla Mezzia Terme a base di idrogeno rinnovabile. Sentiamo il servizio di Simona Zunghetti. Nuove sfide per la Tecfem, la società di ingegneria multidisciplinare che opera nel settore energetico da oltre 40 anni, la continua innovazione tecnologica che persegue l'azienda fanese le permette di operare in molteplici settori e di investire su nuovi progetti e piani ambiziosi, ad illustrarli l'amministratore delegato Federico Ferrini. Il progetto della KRS di Teca Gas è nato proprio per il nostro impegno che approfondiamo ormai da diversi anni nel settore dell'idrogeno. Abbiamo rincontrato dopo alcuni anni, dopo le prime collaborazioni, la società Teca Gas di la Mezzia Terme, dove noi abbiamo tra l'altro una sede ormai da oltre 15 anni, ha visto in noi un potenziale partner per lo sviluppo di questo progetto e quindi abbiamo creduto in loro e abbiamo messo le nostre competenze e il risultato è questo ban conquistato per il PNRR. E nel dettaglio che cosa prevede? Il progetto Teca Gas HRS prevede la realizzazione di una stazione di rifornimento alla Mezzia Terme all'interno della Multifuel Station che già Teca Gas esercisce da alcuni anni e dove appunto rifornisce anche l'autotrazione di gas liquefatto, gas naturale liquefatto. Quindi con l'offerta dell'idrogeno si realizzerà un unicum all'interno della distribuzione di carburanti a livello italiano in cui ci sarà appunto l'offerta anche di idrogeno verde. L'impianto, ha spiegato Ferrini, prevede una baia di scarico per i carri bombolai che arriveranno carichi di idrogeno verde. Il progetto si svilupperà fino al 2025 per rimanere nelle tempistiche dettate dal PNRR. Sempre nel settore dell'idrogeno, Tecfem è parte di un altro progetto, di che cosa si tratta? Il progetto Smart Hydrogrid nasce dalla nostra volontà di iniziare a sperimentare l'idrogeno proprio all'interno di una realtà industriale, quindi abbiamo preso come riferimento il nostro stabilimento qui di Fano, la nostra sede, e sostanzialmente realizzeremo un sistema di accumulo di energia verde prodotta dal nostro impianto fotovoltaico in idrogeno, quindi attraverso un elettrolizzatore trasformiamo questa energia in idrogeno verde, lo accumuliamo e poi attraverso una fuel cell lo andiamo a riutilizzare durante la notte appunto, quando il sole non c'è, per far andare i nostri impianti e quindi realizzare una sorta di pila all'idrogeno verde. È un impiego innovativo, ha poi aggiunto Ferrini, che ci consentirà di arrivare a un livello di autonomia energetica superiore al 60%. L'impianto verrà realizzato nella sede di Tecfem a Bellocchi di Fano. I lavori per lo Smart Hydrogrid sono già partiti, abbiamo già fatto il kick-off meeting con i partner, è una filiera di imprese di cui Tecfem appunto è capofila, quindi siamo già al lavoro. La particolarità di questo progetto, oltre all'innovatività appunto della gestione del energia verde attraverso la trasformazione in idrogeno, è anche la componente digital che abbiamo conferito al progetto. Infatti l'impianto sarà dotato di un digital twin, quindi una modellazione digitale totale che ci consentirà quindi di gestirlo al meglio in fase della sua vita utile e allo stesso tempo svilupperemo un sistema innovativo di Energy Management System che ci consentirà di sperimentare quindi tutta una serie di facility per la gestione dell'energia verde in ingresso all'impianto. E subito dopo le festività di Pasqua verrà convocato un tavolo allargato di tutto il centro-destra al fine di coordinarsi e dettare le linee per le prossime elezioni amministrative di Fano. Lo hanno fatto sapere Alessandro Brandoni della Lega, Enzo Di Tommaso di Forza Italia, Loretta Manocchi di Fratelli d'Italia e Stefano Pollegioni dell'Udici. Capita, si legge in una nota diffusa dal gruppo che quando la confusione regna sovrana in casa propria qualcuno preferisca parlare a sproposito di altre famiglie. In tal senso, hanno aggiunto, fanno sorridere le dichiarazioni di esponenti del centro-sinistra, ultimo l'assessore del PD Dimitri Tinti, che si preoccupa su chi sceglierà il candidato della nostra coalizione. Vogliamo rassicurare lui e suoi sodali, hanno concluso gli esponenti di centro-destra, che a differenza del suo partito che per anni da Pesaro ha guidato malamente le scelte della nostra città, sarà indicata la persona più adatta ad amministrare Fano dalle segreterie locali insieme a quelle provinciali che sono al lavoro da alcuni mesi. E cambiamo argomento, nel primo pomeriggio di oggi l'assessore Etienne Lucarelli ha presentato il nuovo programma degli eventi. La conferenza stampa si è tenuta in piazza 20 settembre di fronte all'ufficio informazioni. Oggi è stato anche attivato il primo totem interattivo che fornirà notizie su ciò che sarà disponibile giorno per giorno nella nostra città. Siamo nelle vicinanze di Pasqua e ormai la stagione turistica incombe, anche se la temperatura, dobbiamo dire, è ancora piuttosto rigida, comunque le giornate di sole si stanno avvicinando ed è momento di fare promozione turistica, in modo particolare per le prime avanguardie le turistiche giungeranno nel nostro territorio in occasione delle prossime vacanze. Assessore Lucarelli, gli eventi costituiscono una fonte di attrazione di particolare importanza. Che cosa si prospetta quest'anno ed è già stato varato il calendario degli eventi? Sì, oggi siamo qui proprio a presentare questo, un lavoro importante perché devo dire che arrivare alle porte della Pasqua, considerando che molte saranno le famiglie che in un qualche modo decidono di venire nel nostro territorio e magari decideranno di venire a visitare nella nostra città, ecco, divulgare già da oggi il programma eventi della città che racconta la programmazione che avrà la nostra città nel periodo estivo ma insomma per tutto l'anno 2023 è una cosa indispensabile se vogliamo parlare di turismo. Quindi da oggi questo calendario 20, fanno 2023, sarà distribuito ovviamente a tutti gli hotel, tutte le strutture ricettive aperte, sarà distribuito nei luoghi pubblici e tutte le attività private insomma che lo vorranno e sarebbe importante averlo nella propria attività, possono venire nello IAD di piazza 20 settembre, prenderne delle copie per poter dare informazione a tutti i turisti che saranno nella nostra città. Sono confermati i principali eventi di attrazione del nostro territorio? Sì, e qui voglio ringraziare coloro che lavorano anche con largo anticipo per una programmazione annuale, è un lavoro di squadra e questo ci permette oggi di vorrare questo programma eventi di circa 25 pagine che racconta i principali eventi che tutti conosciamo, che sono tutti confermati con lo spostamento del brodetto che non sarà più a settembre ma si terrà ai primi di giugno, confermato l'evento di Passaggi Festival che ha passato a dieci anni e andiamo all'undicesimo così come confermata la Fano di Cesare, il GES e le altre manifestazioni. Si confermano le attività nella zona di Torrette Ponte Sasso, quindi attività di accoglienza come nel programma sono riportati tutti gli eventi che le varie associazioni realizzano dei quartieri perché riteniamo che i quartieri come il Lungomare siano parte integrante della città. Oltre al calendario ci sono anche altre forme di diffusione per quanto riguarda il programma? Stiamo andando verso il digitale, va benissimo un programma eventi, dietro il programma eventi c'è proprio scaricate l'app della città di Fano o visionate il nostro sito perché ecco c'è una nuova app da poter scaricare ma in realtà è proprio un nuovo sistema intelligente, un portale dove noi siamo in grado di inserire tutte le informazioni e queste informazioni una volta rilasciate entreranno direttamente nell'applicazione, nel sito internet, in una serie di totem che da oggi saranno installati della città, Totem Touch che porteranno le pubblicità della città e dei vari eventi in base al periodo in cui le persone troveranno queste promozioni, ecco toccandoli potranno trovare tutte le informazioni della città, quindi un metodo di diffusione nuova, più fresca. Le persone che arriveranno hanno l'informazione a portata di mano per chi sa utilizzare bene il cellulare o a portata di Totem perché da oggi ne saranno installati due, uno in piazza e uno davanti al caffè centrale ma per la fine dell'anno arriveranno anche nel lungomare. E il servizio era di Massimo Foghetti. Reduce dal recente successo di The Voice Senior, Claudio Morosi ha raggiunto i nostri studi per raccontare l'esperienza vissuta e annunciare i nuovi progetti. Tra questi un concerto a Fano per ringraziare i cittadini e amministratori locali che lo hanno sostenuto. Lo ha incontrato per noi Stefania Bonomi. E adesso andate pure, voglio restare solo con la malinconia. Non è stata una sorpresa per Fano trovarsi Claudio Morosi alle finalissime di The Voice Senior 2023. Quest'ultima edizione condotta da Antonella Clerici con quattro aggueritissimi giudici a contendersi la splendida e graffiante voce del cantante fanese. Ma la serata finale lo ha sapientemente condotto Gigi D'Alessio da Claudio Morosi scelto come coach, giunto con il brano Perdere l'amore di Massimo Ragnieri. Claudio Morosi classe 1962 è da anni tastierista e nota voce del territorio, spesso presente come cantante musicista a grandi eventi musicali marchigiani. Ha sempre affiancato il mestiere di musicista a quello di operatore socio-sanitario. L'innamoramento per le sette note nasce proprio nella chiesa di Santa Maria Nuova di Fano, dove il piccolo Claudio, nato in Svizzera da madre veneta e padre fanese, resta affascinato e incuriosito dall'organo, strumento che ha imparato a suonare con passione, lo porterà a collaborare con Michele Centonze sugli arrangiamenti per Pavarotti e Infrienz, Boccelli e altri importanti nomi del panorama musicale internazionale, come Anastasia, Barry White, Patty Bravo e Fiorella Mannoia. Anche se Claudio Morosi non si è portato a casa la vittoria, dal suo sorriso traspare la soddisfazione di aver realizzato il suo sogno, quello di essere riuscito a portare la sua musica nel cuore della gente. Sapevi già che se tutti i coach si fossero girati avresti scelto Gigi D'Alessio o è stata una decisione istintiva? Sì e no, cioè, sapevo, ero sicurissimo che al secondo accordo si sarebbe girato Gigi D'Alessio e avevo deciso che il primo che si fosse girato avrei scelto ed è stato lui. Cosa ti ha spinto a fare domanda a The Voice Senior 2023? Ma sai, avendo lavorato sempre dietro le quinte, Pavarotti e Infrienz, accompagnato artisti, quindi essendo stato sempre dietro le quinte, una volta nella vita ho voluto fare finalmente il protagonista e mi sono iscritto a The Voice Senior. Cosa vedi nel futuro della musica attuale dalle nuove voci che escono dai talent show televisivi? Ma secondo me sai, come da sempre ci sono tanti talenti, tantissimi, perché siamo in Italia, la musica a livello internazionale parla in italiano ad agio, breve, veloce, lo capisco in tutto il mondo, quindi noi abbiamo nel DNA una cultura enorme e abbiamo tantissimi, bravissimi artisti. Il problema è un po' la discografia che va sempre a tarpare le ali di chi se lo meriterebbe, ma sono convinto che piano piano, col tempo, si possa tornare finalmente a una musica melodica italiana. Claudio, quali sono oggi i tuoi progetti artistici per il futuro? Io insieme al mio staff, insieme al mio management stiamo pensando di organizzare un tour che ci porterà in tutta Europa, se non anche negli Stati Uniti e in Canada dove ci sono delle comunità di italiani oriondi in quei paesi, insomma nati in quei paesi, emigrati, eccetera, in Svizzera soprattutto, dove io sono nato effettivamente. Quindi abbiamo in programma questo, ma anche in programma un bel concerto per ringraziare il sindaco al quale io ho portato in prima serata Fano, per ringraziare tutto il comune, per ringraziare anche i fanesi, non per ultimo, che mi hanno votato e mi vogliono bene. E vi ricordo che domani, venerdì 7 aprile, torna in salute. Nella settima puntata, con inizio alle ore 18, si parlerà di teatro, perché si dice faccia bene alla salute. L'ospite di Tommaso Fuglio Golini e Michele Rossini sarà il regista, formatore teatrale e direttore artistico Fabrizio Bartolucci. E apriamo l'album di famiglia di Fano TV e facciamo gli auguri a Novello Nucci ed Elide Scrilatti, che oggi festeggiano 50 anni di matrimonio. Nozze d'oro per questa coppia di Santa Maria dell'Arzina. E subito dopo di noi, le previsioni del tempo e a seguire il primo dei tre speciali dedicati a Fano Gastronomica, la rete dei ristoranti del mare di Fano. L'ora dunque, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci. L'ora dunque, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.